Davide? Davide Pistoni che è il nostro pianista Eh senti che applauso Che è pianista ma in realtà lui fuori di qui è un comico No è un comico perché è figlio di una... figlio d'arte D'arte sì, mia madre e mio padre erano attori Era un attore e eravamo al ristorante ci ha fatto ridere raccontando una storialina Scusa andiamolo a raccontare là davanti No, 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 qui No, no, falla, falla No, no, la puoi dire, la puoi dire È televisione È televisione, mettiti qua, mettiti qua, dai Una carriera rovinata No, no, che carriera rovinata, vai È una storialina? Noi, Lorena, ci spostiamo perché lui ha tutto abbinato Vai È semplicissimo, è una storialina che parla di un signore che una volta al mese Si, si Si rilassa, è l'unico momento della sua vita dove finalmente una volta al mese dove può finalmente Ah, rilassarsi Allora va davanti a questo lago Ci vorrebbe un po' di Cioè, cosa vuoi? Un po' di musica? No, un po' di sottofondo tipo lago Lago? Ecco, ecco Va bene, io mi metto qua Ecco, ecco Quindi è muta, quindi non ci sono parole Semplicissima L'acqua da riuscire Questo signore arriva davanti al lago con la sua canna da pesca Lui è la natura, finalmente Tranquillo L'acqua da riuscire 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 Che vergogna! Ha un altro futuro, un altro mestiere, poi cambiamolo quando vuoi. Davide Pistoni, il nostro pianista. Noi siamo pronti per andare a disco incantato.